Bene, allora non vedo altri commenti quindi presumo di poter proseguire come vi dicevo rimaniamo in ambito archeologico ma ci spostiamo negli Stati Uniti più precisamente a San Francisco questo perché l'archeologo Matthew Collins, archeologo biomolecolare dell'Università di York è stato autore insieme ad un gruppo di ricercatori francesi, irlandesi e statunitensi del gruppo The York Gospels A One Thousand Year Biological Palimpsest ovvero i Vangeli di York, un palimpsesto biologico di mille anni l'articolo risulta essere uno studio pubblicato sul giornale scientifico Royal Society secondo il quale il dottor Collin, a seguito di uno studio quinquennale ha affermato che un'edizione medievale del Vangelo di Luca ovviamente presente, appartenente appunto al gruppo York Gospels questo Vangelo risalente appunto al periodo medievale il Vangelo di Luca parliamo risulta essere una grande sorgente di informazioni biologiche in questo senso Timothy Stinson studioso di poesia medievale all'Università della Carolina del Nord ha commentato come segue è una scoperta che spalanca le porte di quel mondo fatto di monaci cavalieri, scrivani, poeti, damigelle e mercati e mercanti che popolavano l'Europa durante il Medioevo e che hanno toccato i documenti lo studio biologico di questi Vangeli e di altri 5.000 manoscritti circa ha permesso alla squadra del dottor Collin e ad altri ricercatori di avere un'idea più chiara dei batteri e delle infezioni che abitavano nel nostro mondo e come il genere umano abbia sviluppato gli anticorpi per determinate malattie che ne pensate? allora vediamo un po' ah bellissima questa cosa l'avevo letta in effetti i metodi che abbiamo oggi per analizzare i reperti ci possono aprire davvero alla conoscenza di tantissime cose a volte impensabili che vero? a Grazie a tutti.